Bentornati a Trame Raccontate Male. Oggi raccontiamo, male, Lucrezia Borgia di Donizetti. Lucrezia Borgia è un'opera che parla di delazione, di tradimenti, omicidi plurimi, promiscuità sessuale estrema e tanto, tanto vino avvelenato. La trame è molto complessa, ma i personaggi fondamentalmente sono tre. Lucrezia, che ha più partner sulla coscienza di un'amante religiosa, Alfonso, suo terzo marito, che crede che sia una buona idea sposare una donna che ha avvelenato i primi due, e Gennaro, figlio di Lucrezia, un ragazzo devastato dal complesso di Edipo. Trama. Dopo la classica festa a Venezia a base di vino, droghe sintetiche e donne di facili costumi, nobili di varie famiglie manifestano il loro odio viscerale contro Lucrezia Borgia, dato che, chi più chi meno, tutti ci hanno rimesso almeno un parente. Tra di loro c'è Gennaro, che è un po' serioso di carattere, noioso come un geometra del catasto, e mortificato perché non può vantare neanche uno straccio di parente avvelenato, si addormenta. Arriva Lucrezia, si avvicina a Gennaro e ne contempla i lineamenti. Lucrezia è in realtà la madre di Gennaro, ma lui non lo sa, lei invece sì. Quando si sveglia, Gennaro si dichiara subito follemente innamorato di questa perfetta sconosciuta, come nella migliore tradizione dell'opera lirica. Siccome però è un fine ed esperto seduttore, Gennaro dice a Lucrezia quello che ogni donna vorrebbe sentirsi dire. Ti amo, ma più di te amo mia madre, che non ha mai visto né conosciuto, vi ricordo. Lucrezia, che famosa per la sua umanità, probabilmente ha dei sensi di colpa per questo figlio che è abbandonato alla nascita, gongola felice come una Pasqua. Giungono però gli amici di Gennaro, che gli svelano l'identità della dama e la coprono di insulti come un piccione copri di guano monumento. Lucrezia fugge via. Anzi, Lucrezia fugge via. All'incontro fra Gennaro e Lucrezia aveva assistito anche Alfonso, marito di Lucrezia. Stanco di avere più corna di un cesto di lumache, Alfonso decide di eliminare quel giovane, convinto che sia l'ennesimo amante di Lucrezia. Da Venezia ci sposiamo a Ferrara. Davanti al Palazzo Ducaio, dove campeggia lo stemma e la scritta Borgia, Gennaro viene stuzzicato dai suoi amici, i quali lo prendono prenatiche per la sua avventura con Lucrezia e anche per il fatto che non ha riconosciuto la donna più famosa d'Europa. Gennaro, forse ipovedente, ma su questo il librettista non ci conforta, si indegna e sfregia lo stemma di Borgia e trasforma quindi la scritta Borgia in Orgia. Ricordiamoci sempre che Gennaro non sa di essere il figlio di Lucrezia. Neanche il tempo di farsi una doccia e Gennaro viene arrestato. Intanto a Palazzo Lucrezia è infuriata per lo sfregio del suo stemma e siccome una che non si lega le cose al dito, pretende dal marito che il responsabile sia arrestato e messo a morte. Ricordiamo che anche Alfonso ignora che Gennaro sia il figlio di Lucrezia, crede che sia un suo amante. Alfonso quindi, i cui sgueri hanno già arrestato Gennaro, si frega le mani felice come un bambino in un negozio di giocattoli e giura alla consorte che il colpevole verrà messo a morte. Quando Gennaro viene portato al loro cospetto, a Lucrezia prende un infarto perché si rende conto di aver chiesto pochi minuti prima la testa del responsabile al marito. Tenta quindi goffamente di scagionarlo, ma Gennaro candidamente ammette che sì, il responsabile dello sfregio è lui. Rimasti soli, Lucrezia dice ad Alfonso di aver cambiato idea che uccidere quel giovane alla fin fine non serve e in preda a fervore mistico esalta la virtù cristiana del perdono. Alfonso le rinfaccia i suoi 5.628 tradimenti e ribadisce che Gennaro sarà messo a morte, pochi cazzi. Siccome però anche lui ha un cuore, fa scegliere a Lucrezia la modalità della morte, spada o veleno. Lucrezia a questo punto potrebbe serenamente spiegare ad Alfonso che Gennaro è suo figlio, un figlio che oltretutto lei ha avuto molti anni prima di conoscere Alfonso. Facendo così però l'opera finirebbe qui e a Donizetti non pagherebbero la commissione. Inoltre in un'opera seria uno straccio di morto ci deve essere e questa è la ragione per cui Lucrezia non passa neanche per l'anticamera del cervello questa opzione. Lucrezia quindi sceglie il veleno e non la spada. Gennaro viene riportato al loro cospetto. Alfonso gli dice che perdona la sua bravata e gli dà da bere del vino avvelenato che a casa Borgia non manca mai. Appena Alfonso esce, Lucrezia dà a Gennaro l'antidoto e gli dice di fuggire da Ferrara. Prima di fuggire dalla città, a Gennaro sembra che sia un'ottima idea andare con l'amico Maffio all'ennesima festa a base di champagne, sostanze psicotrope e sesso facile a casa della principessa Negroni, famosa anche per i cocktail sbagliati. Peccato che questa festa sia stata organizzata da Lucrezia Borgia per eliminare una volta per tutti i suoi avversari. Perché vi ho già detto che Lucrezia è una che non serve a rancore. La festa precede normalmente, a parte il litigio fra Maffio e tale Gubetta. I due cominciano a insultarsi, io qui vediamo che tutto il mondo è paese. Cioè siamo tutti amici, ma appena litighiamo con qualcuno tiriamo subito un ballo, o sua madre o la sua provenienza geografica. Un po' come se tamponati al semaforo da un francese invece che compilare la constatazione amichevole li gridassino subito a francese di me! Placcati gli animi, la pace viene suggellata con del vino che non lo credereste mai e avvelenato. Lucrezia entra trionfalmente in scena per annunciare a tutti che hanno pochi minuti di vita. Lucrezia però si trova ancora una volta a Gennaro Frecoglio. Anche lui ha bevuto il vino avvelenato e si candida così al Guinness dei Primati come l'uomo più avvelenato del mondo. L'antidoto ci sarebbe, ma non basta per tutti. Gennaro quindi non potendo salvare i suoi amici decide di non prendere l'antidoto e muore lasciando a Lucrezia un enorme vuoto interiore che se dovesse scommettere riempirà ammazzando un po' di gente nel sequel che però Donizetti non scriverà mai. Se volete iscrivetevi al canale attivate la campanella e se volete ci vediamo alla prossima trama raccontata male.